cosa insegna la meditazione nello stare nel dolore perché io di solito tutti noi di solito rispetto al dolore abbiamo due strategie o fuggo o resisto due possibilità se posso possibilmente me ne scappo se non posso perché me lo devo beccare resisto allora la pratica insegna la terza possibilità ok ed è proprio della pratica la terza possibilità lo stare abbandonati cioè non resisti nessuno ti dice dai dai sforzati che ce la fai no non è questa cosa qua è stai arrendendoti stai nella resa allora lo stato di sofferenza vissuto nella resa è uno stato di sofferenza esperito in un modo molto diverso mi insegna tante cose sulla sofferenza su di me sul rapporto con la sofferenza tanta roba e stato di resa la sofferenza scusatemi nello stato di resa spesso e volentieri si annichilisce ok ripeto lo stato di sofferenza nella nel luogo abitato nel luogo della resa si annichilisce molto spesso no hai ragione molto spesso no per esempio posso essere un praticante non tanto esperto e la sofferenza rimane oppure posso essere un praticante tanto esperto e la sofferenza rimane lo stesso perché perché ci sono degli stati di sofferenza tali che non se ne vanno non ci raccontiamo la storiella che adesso ho la il il moment della meditazione e siamo a posto no non sei a posto la pratica di meditazione tra le altre cose insegna questa cosa ok cioè ogni qui e ora è il luogo della pratica non ti puoi permettere di sognare che arriverà un momento arriverà un mondo arriverà un giorno che grazie alla mia pratica non soffrirò più vi ricordate il riferimento al discorso del buddha delle due frecce quella discorso è fondamentale è solo quello è solo quello accorgermi quanto io produco la seconda freccia quanto noi ogni giorno in tantissimi frangenti del giorno produciamo la seconda freccia cioè la nostra obiezione allo stato di sofferenza che può essere sorto per questo per quel motivo quella quella è il quello è il lavoro sulla seconda freccia ed è fantastico il fatto che il buddha quando dice della differenza tra il suo tra il monaco e il non monaco che vengono colpiti dalla freccia non dica mai è il monaco dato che è il mio monaco il dolore della freccia non lo sente mica non ci racconta la storiella non ci racconta la storiella da happy end no il monaco colpito dalla freccia soffre fisiologicamente biologicamente naturalmente il dolore della freccia ma non ci aggiunge null'altro nessuna obiezione nessuna obiezione nessun pianto interiore nessuna obiezione a se stesso la seconda freccia va bene no stai solamente vi passano vi ricordate il nome la parola stare aderente al fenomeno stare aderente alla cosa non sto aderente alla sensazione non sto aderente l'emozione ho vissuto mai nella mia vita un'emozione guardate che la pratica dell'aderenza allo stato emotivo è una roba è una roba pazzesca ti fa vedere che tu uno stato emotivo non l'hai mai vissuto l'hai solo pensato l'hai solo pensato non conosco lo stato emotivo non conosco cosa è sperire un'emozione solo la concettualizzo la penso la rifletto questa è una cosa per non parlare della dimensione corporea ma questa rimaniamo sulla dimensione emotiva è terribile questa cosa qui non si tratta di perché siamo appassionati di buddismo ci facciamo il trip della meditazione va di moda ma non è questa roba qua è accorgersi che io non sono incarnato sono un morto che cammina non sono nel mio corpo non sono nelle mie sensazioni non sono nei mie stati emotivi è tutto filtrato è pazzesca sta roba è inquietantissima sta roba il praticante deve vedere questa roba qua la deve vedere per quella volta che la vede capisce il senso della pratica se no cosa stiamo qua a fare capisce il senso della pratica pratico non perché voglio fare il buddista della domanda del venerdì ok pratico perché voglio fare lo spirituale pratico perché mi accorgo che sono morto ma non perché l'ho letto in un libro non ma perché la pratica anche poca pratica mi ha fatto vedere questa roba guarda guarda poi fai quello che vuoi ma guarda